Benvenuti a Medicina Amica. Oggi l'argomento è talmente serio che immagino che tutti quanti resterete veramente incollati davanti al televisore perché ci riguarda un po' tutti e forse questo appuntamento può essere anche un po' preventivo per taluni e per altri invece può essere chiarificatore di quello che avviene in sala operatoria ma soprattutto di quello che avviene all'interno di noi nel nostro cuore. Parliamo infatti di chirurgia della cardiopatia ischemica e quando parliamo di cardiopatia ischemica qualcosa che poi prelude all'evento più drammatico che è l'infarto parliamo di una delle patologie più estremamente diffuse nel nostro paese ed è anche la prima causa di mortalità. Infatti da sola rappresenta il 35% di tutte le morti legate alle patologie del cuore e i numeri sono veramente impressionanti. Si va dai 70.000 agli 80.000 casi di decessi, sto parlando di decessi ogni anno. Quindi parlare di chirurgia oggi, fare il punto su quelle che sono le metodiche tradizionali ma anche quelle più innovative e penso che sia veramente un'occasione straordinaria. Soprattutto perché ci siamo regalati ancora una volta la presenza di uno dei più grandi cardiochirurghi che il nostro paese possa vantare, del dottor Giovanni Troise. Buonasera dottor Troise, grazie. Sono veramente orgogliosa e poi le sono grata perché so che il suo tempo è prezioso come tutti possono immaginare ma lei ci dedicherà due ore intere per farci capire che cosa avviene in sala operatoria. Vi ricordo che il dottor Giovanni Troise è responsabile delle unità di cardiochirurgia della fondazione Poliambulanza di Brescia. Allora la mia introduzione non è stata delle più tranquillizzanti e forse chi ha qualche attacco probabilmente al cuore non in ordine sicuramente avrà incominciato ad accusare qualche tachicardia in più. Ecco, stiamo veramente parlando di qualcosa di molto serio, tuttora molto sottovalutato e benché ci siano veramente notevoli possibilità diagnostiche oggi a volte si manifesta come un evento ancora drammatico. Partiamo dall'inizio quindi. La definizione di che cosa stiamo parlando per ovviamente per il grande pubblico quindi con termini semplici. Ci proviamo. Vedo che ha introdotto perfettamente il problema che è un problema sociale, potremmo definirlo così. Innanzitutto vediamo cosa si intende per cardiopatia ischemica. Diciamo per i profani la parola potrebbe anche avere un significato poco comprensibile. Si tratta di una situazione nella quale viene ad essere ridotto il flusso di sangue al miocardio. Il miocardio è il muscolo cardiaco. Come tutti sappiamo è il muscolo che serve praticamente a far pompare il sangue in tutto l'organismo. Quindi è chiaro che i risentimenti poi su quest'organo sono notevoli. Si può avere una riduzione di flusso per un restringimento o per una occlusione delle cosiddette arterie coronarie. Sappiamo che ogni organo ha una sua vascolarizzazione, cioè ogni organo ha un sistema arterioso afferente. Le arterie del cuore si chiamano arterie coronarie. Sono appunto quelle che portano ossigeno al nostro cuore, sangue e ossigeno. Ecco questa è un'animazione che sicuramente potrà essere utile per comprendere. Fa proprio vedere cosa sono le arterie coronarie. Sono proprio delle arterie che si trovano sulla superficie del cuore e poi dalla superficie del cuore danno delle diramazioni che vanno all'interno del muscolo cardiaco e lo errorano. È chiaro quindi che quando si ha un problema a questo livello il cuore ne risente perché ovviamente gli viene a mancare, ripeto, o per un restringimento o per una occlusione totale, il corretto flusso sanguigno. Quindi c'è una situazione di netto squilibrio tra il sangue che affluisce e la necessità invece reale che ha il nostro muscolo, il nostro organo, di avere ossigeno a disposizione. Esattamente. E l'ischemia non è altro che questa condizione. Quindi il termine ischemia è proprio questa. È una condizione di scarso flusso. Di sofferenza. Di sofferenza. Bravissima. L'ischemia può essere cosiddetta reversibile nel momento in cui si ha un'ostruzione parziale. Quindi si ha un'ostruzione parziale che, come giustamente ha detto lei, al riposo potrebbe anche non dare alcun segno, ma quando il cuore è sotto stress, come avviene per uno sforzo, per una condizione di ipertensione, quindi il cuore aumenta il proprio lavoro, quel restringimento in una coronaria o quell'ostruzione, può farsi evidente con l'ischemia. Cioè in quel momento il nostro rischio aumenta, si impenna vertiginosamente. Esattamente. Ho letto anche un'emozione forte potrebbe rappresentare un rischio ulteriore. Certamente, perché ne consegue una tachicardia e la tachicardia non è altro che un aumento del lavoro del cuore. In condizioni di flusso coronarico normale siamo nati e siamo stati creati per far fronte in tutti i modi a queste situazioni particolari. Ma se uno ha un'alterazione del flusso, se poi l'alterazione del flusso finisce per diventare una ostruzione, un'occlusione, un impedimento completo al flusso ed è acuto, si può avere l'infarto. Quindi dall'ischemia che è una condizione irreversibile, si può avere una condizione irreversibile. Che è irreversibile, perché l'infarto è proprio l'evento diciamo drammatico, quello che ci mette a rischio di vita. Certo. E dopo vedremo che cosa significa infarto sul cuore, magari da qualche immagine. Se guardiamo una sezione di una coronaria, tanto per capire, che poi non è altro che un'arteria, una qualunque arteria dell'organismo è fatta così. Quindi questa, immaginate che la sezione di un'arteria dell'organismo, in questo caso di una coronaria, che sono piccole arterie. Di una coronaria sana però. Di una coronaria sana, che ha vari strati, in particolare sono tre strati, una parte esterna, un'interna che è l'endotelio ed un intermedio che è la cosiddetta media del vaso. Quando si ha la formazione della cosiddetta placca aterosclerotica, si fa, si crea un accumulo, si creano dei depositi a livello proprio della media, vedete, nel disegno della media del vaso, dei depositi di materiali, in particolare di colesterolo, quindi materiali grassi, che nel tempo provocano un graduale restringimento del vaso. Quello è soprattutto il colesterolo cattivo, vero? Esattamente. Quindi il restringimento del vaso che può diventare del 20, 30, 40, 50, fino a diventare un'occlusione. Si può addirittura avere un'occlusione che se si realizza in maniera graduale, lenta, quindi si crea al sistema coronarico il tempo di creare dei circoli collaterali, può anche non provocare l'infarto, mentre se si ha un'occlusione acuta, quello poroga una sofferenza acuta, non c'è stato il tempo per la natura di porre rimedio con situazioni di circoli collaterali, quindi perché si forma per esempio l'occlusione acuta? Io penso che questa sia la grande domanda che tutti voi specialisti vi ponete. Esatto. Perché questo rivestimento dell'arteria, l'ha chiamato? L'intima o l'endotelio. L'endotelio. È come se fosse un organo, no? Quindi non è inerte e gioca un suo ruolo. Ha una funzione importantissima che per certi versi è un po' quello che avviene all'esterno con la pelle. La pelle è un organo di rivestimento, un organo complesso con tante funzioni, lo stesso è l'endotelio. Infatti se si ha la placca ma l'endotelio rimane integro, si può avere una progressiva ostruzione del vaso, ma senza conseguenze terribili. Cosa accade invece? Che quando si rompe la placca, quindi viene a contatto con il flusso ematico questo materiale, scattano una serie di meccanismi complessi da spiegare, ma sono meccanismi di tipo ormonale mediati da varie sostanze, per cui la natura cosa fa? Tenta di andarla a riparare. Esattamente come dicevo prima, come viene all'esterno quando abbiamo una ferita. Ci feriamo ma la natura ci fa guarire la ferita perché si forma il coagulo, poi si forma la crosta e quindi la cicatrice eccetera eccetera. Ecco, la tendenza dell'organismo è anche all'interno del vaso. Quindi questo medesimo processo avviene anche all'interno. Esattamente. Questa lesione provoca praticamente una reazione dell'organismo che tenta di ripararla. Una sorta di riparazione. E diciamo il clou di questo sistema di riparazione è il cosiddetto tappo piastrinico. Le piastrine sono quelle che accorrono, sono quelle che accorrono per riparare i danni. Però purtroppo all'interno, senza volerlo, le piastrine cosa creano? Tentano di riparare questa lesione creando un trombo. Il trombo può essere tale da occludere completamente il vaso. Quindi dalla placca occludente si passa all'ostruzione trombotica del vaso e questa è la trombosi coronarica. Ovviamente la conseguenza, se avviene acutamente di questo, è l'infarto. Così si presenta il nostro cuore infartuato? Esattamente. Queste sono due immagini che fanno vedere degli esempi. Questa per esempio è un'ostruzione di una coronaria importante, la coronaria interventricolare anteriore, che ha creato un infarto della parte anteriore del cuore. Le coronarie sono diverse, fondamentalmente sono tre sistemi. Questa è venuta dall'anteriore. E cos'è? È una zona di cuore che diventa necrotica. muore. Capiamo bene quindi che siccome il muscolo cardiaco ha una funzione dinamica, ha una funzione di pompa, se una zona muore, questa zona non avrà più utilità ai fini del pompare il sangue. Quindi da quel punto di vista il cuore ne può avere delle conseguenze. Dipende dall'estensione dell'infarto. Infatti voi di solito tendete a definire un infarto lieve, un infarto invece importante, anche a seconda dell'ubicazione di dove avviene, quindi della coronaria interessata. Giustissimo. Purtroppo questa però è una maniera un po' superficiale di affrontare il problema, perché un infarto lieve di solito noi lo intendiamo quando non ha lasciato grossissime conseguenze al paziente in termini di riduzione delle funzioni, non ha danneggiato moltissimo il cuore. Però di fatto anche un infarto cosiddetto lieve, nel senso anche una piccola coronaria o una coronaria cosiddetta minore, può provocare conseguenze se all'esordio il paziente ha per esempio un'aritmia grave, una fibrillazione ventricolare. Che sono delle complicanze. Un arresto cardiaco, un blocco atrioventricolare. Quindi diciamo che lieve lo si può dire solo a posteriori quando il paziente ne è uscito brillantemente con pochi danni. E mi conferma, dottor Troise, che ci sono persone che subiscono senza accorgersi degli infarti cosiddetti lievi e lo scoprono poi invece in sede di altri esami. Sicuramente, lo vedremo dopo nella sintomatologia, però stando nel campo dell'infarto, visto che lei è andata giustamente sull'argomento, certo ci sono pazienti che fanno occasionalmente un esame che potrebbe essere un esame ecocardiografico e magari scoprono di avere qualche regione del cuore con una motilità normale, compromessa, che nella globalità della funzione cardiaca non ha particolari conseguenze, però è un segnale che ha avuto magari degli infarti misconosciuti. Esatto, una grave sofferenza. Proseguiamo dunque. Le sto facendo perdere un po' di tempo, ma così almeno abbiamo una comprensione migliore. Per quanto riguarda invece l'incidenza, lei ha detto benissimo, prima causa di morte nei paesi industrializzati, ha dato dei dati correttissimi, ne do uno che forse fa un pochino più impressione, fa più spaventare di quelli che ha dato lei. Abbiamo un motivo proprio di preoccuparci. Esatto, nel nostro paese noi possiamo dire, che poi alla fine il tutto torna con i conti, con quello che ha detto lei, che avviene un infarto ogni 7 minuti e addirittura un decesso per cardiopatia ischemica ogni 20 minuti. Questo fa capire che già le cardiopatie in generale sono ancora, più delle neoplasie, lo dissi nella scorsa trasmissione, la prima causa di mortalità nel mondo. Ma nell'ambito delle cardiopatie poi quella ischemica è quella che incide maggiormente. È chiaro che tutto questo implica dei problemi enormi di prevenzione quindi sul territorio, diciamo di conoscenza del problema e di messa in atto di tutte quelle possibilità che sono più che altro di tipo cardiologico per affrontare il problema. Devo fare un calcolo, mentre noi stiamo qui a parlarne ci saranno persone che in Italia subiranno un infarto e purtroppo ce ne saranno anche almeno 4 o 5 che perderanno la vita. Bene, quindi è meglio conoscerlo esattamente il nostro nemico che poi anche a voler essere ottimisti però già l'età è un fattore di rischio. Per cui quella sezione che noi abbiamo visto dell'arteria coronaria probabilmente è una, come posso dire, è un'utopia ma in persone, negli adulti non è più così. Non avremmo più una cosa di questo tipo. Se noi andassimo a studiare tanti anziani il loro sistema coronarico troveremmo tante coronarie con stenosi, con restringimenti patologici. Questo fa parte un po' anche dell'invecchiamento però se sono presenti dei fattori di rischio che ora dopo vedremo purtroppo è una malattia che colpisce i soggetti giovani e più passa il tempo più si abbassa l'età dei soggetti che vengono colpiti da infarto. Quando ho iniziato 30 anni fa a fare il cardiochirurgo era molto difficile vedere pazienti di 30 anni. Adesso ci capita anche di vedere i pazienti sotto i 30 anni compiti da infarto. Quindi probabilmente le abitudini di vita. Sì, sicuramente lo stile di vita, la vita che non è più sana. Si dice che anche il fattore dell'alimentazione giocherà il ruolo principale, ne sono convinta. Ma anche questo inquinamento con queste polveri sottili che dicono che possono provocare delle infiammazioni continue ai nostri organi. Insomma, probabilmente siamo molto sollecitati in termini negativi. Assolutamente. E tante cose. Però vediamoli questi classici sui quali forse possiamo intervenire un po'. L'età no. Perché se vogliamo vivere ci esponiamo al rischio principale. I fattori di rischio fondamentali sono questi. L'ipertensione. L'ipertensione ed è questo il motivo per cui, ecco dicevo, la prevenzione. L'ipertensione si può curare benissimo. Un soggetto che è iperteso, che non lo sa, oppure se lo sa non sicura. Oggi è un peccato, perché questo sarà un candidato alla cardiopatia ischemica. Il fumo di sigaretta, senza dubbio. Le dislipidemie si intendono tutte quelle alterazioni del metabolismo dei grassi. Primo fa tutti il colesterolo. Il famigerato colesterolo. Oggi sentiamo parlare spesso di sindrome metabolica e quindi ci ritroviamo anche il diabete. Il diabete. Il diabete è in aumento esponenziale. Esattamente ed è micidiale come fattore di rischio in generale sulla malattia vascolare e le coronarie sono vasi. E poi, mentre i primi quattro, come vedremo, possono anche essere eliminati, controllati, c'è poi la familiarità che invece è un fattore purtroppo, che ci portiamo dietro nei geni. Quindi nasciamo con quello che sarà magari il nostro organo bersaglio. Vorrei fermarmi un attimo solo, perché poiché ho assistito a una trasmissione televisiva proprio ieri sera su cui si dibatteva a lungo sull'opportunità o meno di liberalizzare alcune droghe, cosiddette depenalizzare alcune droghe leggere e si facevano delle riflessioni invece. Molto sui danni diciamo neurologici, cerebrali. Ma si parlava anche oggi dell'aumento del numero di incidenti cardiovascolari dovuti al consumo di alcune droghe. Il fattore ipertensione. Cioè è vero che consumare certe droghe come la cocaina ad esempio innalza in maniera violenta e repentina la pressione. Certamente. Beh, la cocaina è risaputo e ci capita, ci è capitato, chi fa il mio mestiere di vedere casi di infarto da uso di cocaina in cocainomani. È chiaro che il meccanismo può essere magari non diretto sul cuore come gli altri fattori di rischio, ma come ha detto giustamente lei, indiretto. Quindi è chiaro che un soggetto che fa uso di queste sostanze E anche altre droghe cosiddette leggere, ma comunque chimiche che possono dare. Indirettamente potrebbero dare. Ma sicuramente la cocaina è quello per cui è accertato il problema. Vanno soggetti, dovrebbero saperlo, questi sbalzi pressori violenti. Ma anche la sigaretta, è vero che ogni volta che fumiamo innalziamo in maniera repentina la nostra pressione? Beh, oddio, adesso questo non avviene così in maniera così... Sono meno pericolosa. Diciamo che l'azione del fumo della sigaretta è un'azione continua, è un danno continuo. Però mi conferma che comunque quella sezione l'andremo a modificare negli anni. Tutto ciò, esatto, contribuirà a modificare e a far nascere quella famosa placca aterosclerotica che poi può avere le conseguenze nefaste che abbiamo visto. Va bene, possiamo lasciare questa tabella, anche se dottor Troisa, a me interessa molto anche che si sviluppi una ricerca, uno studio su quelle persone che hanno quella strana capacità di compensare, come ha detto lei. Pur avendo magari le coronarie messe maluccio, trovano questo sistema compensativo. Sono dei privilegiati dalla natura. Certo, certamente. Ma esistono anche quelli? Sì, diciamo che poi ci sono tanti modi per far fronte, ma sicuramente uno può avere una predisposizione dovuta a una familiarità, ma sicuramente un buon controllo della pressione. Se uno è diabetico, non è mica detto che debba diventare un cardiopatico ischemico. Oh, meno male. In mezzo a tante brutte notizie almeno una risicurata. Assolutamente, se cura bene il diabete, un diabetico ben curato vive a lungo e controllerà la malattia, la controlliamo. Senza incappare in questi incidenti. Esatto. Allora, non le voglio far perdere più tempo perché abbiamo del materiale molto interessante. Poi lei è cardiochirurgo, quindi dobbiamo sfruttare la sua grandissima perizia e soprattutto il suo sperimentare con la sua equip delle tecniche sempre più nuove, sempre meno invasive, molto molto interessanti. Quello di cui parleremo stasera e mostreremo, poi non viene praticato in tutti i centri, perché al contrario, poi l'ambulanza rappresenta proprio l'eccellenza in questo campo. I sintomi? Sembrava giusto, prima di passare alla chirurgia, se ne è d'accordo, dire qualcosa proprio esatto e completare un po' il quadro. I sintomi, alcuni sono tipici. La cosiddetta angina pectoris è quel dolore toracico improvviso, qui al petto, al centro, che può colpire il soggetto durante ischemia. Qualche volta è tipico. Il problema qual è? Che qualche volta è atipico. Può essere un dolore epigastico, cioè la bocca dello stomaco. Può essere un dolore a una spalla, addirittura la mandibola. In qualche caso ci è capitato di vedere pazienti che avevano dolore a una mano o addirittura a un arto inferiore. È chiaro che in queste circostanze dobbiamo comprendere che anche per il paziente è veramente molto difficile capire che gli sta succedendo. Però se ha la fortuna di recarsi da un medico, di un medico molto scrupoloso e attento, può cogliere in qualche caso, anche così strano, l'ischemia. Può esserci una mancanza di fiato, la cosiddetta dispnea. La fanno. Anche questo può essere un tipo. Quindi noi nella nostra vita, se abbiamo una condizione, come abbiamo visto prima, già compromessa, noi andiamo incontro a più ischemie, sino arrivare a quella, diciamo, meno ambita, che è quella dell'infarto, o già quando ci sono questi segnali siamo già arrivati a... No, questi sono tutti segni che... Che se li sappiamo interpretare evitiamo l'infarto, in sostanza. Esatto. Abbiamo detto, come ha detto lei all'inizio, che l'ischemia è una situazione di sofferenza del cuore. Che quindi può essere anche reversibile. Se il paziente, esatto. Se il paziente ha la fortuna di avere questi segni, magari fa uno sforzo. Se noi abbiamo avuto questi episodi, che facciamo, ecco, dottor Roise, se abbiamo avuto questi episodi? Se uno ha dei episodi di questi, che possono sembrare sospetti, conviene sempre andare dal medico che farà degli esami. Dallo specialista. Tenga presente che c'è una quota di pazienti, tra il 10 e il 20%, che non hanno sintomi. Non ne hanno. E infatti questo mi spaventa. E questo, per esempio, avviene proprio nella categoria dei diabetici. C'è una spiegazione a questo, perché la malattia diabetica causa anche una neuropatia, quindi una lesione cronica delle terminazioni nervose, che purtroppo, anche nel cuore, queste terminazioni nervose, se compromesse, non trasmettono più il dolore. Quindi il soggetto può avere l'ischemia, ma non lo sa. Fa uno sforzo e non lo sa. Ed è per questo che si può arrivare addirittura a casi di morte improvvisa. Quindi, sempre per spaventare i nostri... Sì, morte improvvisa. Perché purtroppo sappiamo che anche la cura dell'infarto ha fatto veramente passi da gigante. Cioè, oggi, molte persone non solo vengono salvate dalla morte, ma ritornano, anche grazie alle tecniche che vedremo questa sera, a una vita normale, anzi, meglio di prima. Eh sì. E per molti altri anni godono di una buona salute. Assolutamente. Soprattutto se avranno una condotta di vita, diciamo, sacrovolosa. Direi di sì. Però la morte improvvisa, ogni tanto leggiamo proprio di infarti che sono letali, ma sì. Iplacabili, che non lasciano nemmeno il tempo di raggiungere l'ospedale. Persone che magari passano dal sonno alla morte, perché durante la notte. È chiaro che sono situazioni, diciamo, sotto il termine di morte improvvisa, poi è difficile capire la causa effettivamente scatenante della morte improvvisa. Può essere un'ischemia sicuramente, ma potrebbe essere un'aritmia conseguente alla situazione ischemica. Cioè, in questo caso anche, diciamo che anche la parte, la funzione elettrica del cuore può interferire. Però diciamo, purtroppo, nella maggioranza dei casi ci sono i sintomi, ma in alcuni casi questo non accadde. Bene, abbiamo fatto un sacco di riflessioni. Io non so cosa abbiamo in tabella ancora, cioè l'ordine, però so che a questo punto noi possiamo incominciare a vedere qualche cosa. Andiamo dal medico. Andiamo i sintomi. Esatto. Andiamo dal cardiologo. L'abbiamo più volte invocato. Gli esami, qui sembra tanta roba, però è giusto per ricordarli ai nostri telespettatori, sono esami anche banali. Io so che da casa molti obietteranno, perché chi fa l'elettrocardiogramma a volte dice, ma era tutto normale? Infatti li ho messi in ordine, tra virgolette, crescente di importanza e di agnostica. Un elettrocardiogramma basale può far vedere quello che dicevamo all'inizio. Il cardiologo può capire se il paziente, senza saperlo, ha avuto un piccolo infarto. Allora da quell'elettrocardiogramma si va avanti con gli esami, però è vero che può essere un elettrocardiogramma perfettamente normale. Un esame già più significativo è l'ecocardiogramma, che è quell'esame a ultrasuoni che permette di vedere il cuore in movimento. Quindi anche lì il cardiologo può cogliere un'alterazione di cinetica, di movimento, di una regione cardiaca. A quel punto si può passare, se non sono dirimenti, a questi esami sotto sforzo. Quindi stimolare il cuore con uno sforzo. O elettrocardiogramma o ecocardiogramma, che è forse l'esame migliore che esiste, per svelare l'ischemia. Perché vedi durante lo sforzo come si comporta il cuore. Se c'è un'ischemia durante lo sforzo, l'ecocardiografista coglie subito il problema. Ed è brillantissimo. Poi ci sono altri esami. Cos'è l'ecostress? I pazienti che non possono fare lo sforzo, magari perché anziani o obesi, lo sforzo consiste di solito... Proprio nel pedalare, in condizioni esatto, anche piuttosto disagevoli. Esatto. Allora si può simulare lo sforzo con dei farmaci, lo sforzo cardiaco. Ovviamente tutto sotto controllo. Assolutamente. Si può arrivare a una scintigrafia miocardica, anche questa basale da sforzo. Fin qui abbiamo citato degli esami non invasivi. Ma ora ci arriviamo. Poi, se qualcuno di questi esami fa orientare il cardiologo verso una possibile diagnosi di cardiopatia ischemica, bisogna andare a vedere esattamente come sono messe queste coronarie. Ho messo per ultimo l'attacca coronarica perché è un esame moderno che sembrerebbe evitare la coronografia, però per me che sono un chirurgo dico che ancora oggi l'esame, e l'ho messo quindi in verde, in risalto, che più di tutti ci dice che cosa è il paziente, che cosa noi dobbiamo fare, il migliore è ancora la coronarografia. E poi se mi permette, perché sta diventando piuttosto di moda l'attacca coronarica, in quei pochi centri che dispongono di questa attrezzatura molto sofisticata, però una riflessione merita, è un bel bombardamento, sottopone, quindi teniamo presente che le radiazioni non fanno bene e che un'attacca coronarica ti costringe a... Allora, qualunque esame di questo tipo, perché anche la coronografia è un esame radiologico, si tratta di un'angiografia coronarica, quindi c'è un tubo catodico che emette raggi, sono esami che irradiano il paziente, ma l'attacca, lei ha detto benissimo, da una quantità di raggi pari a centinaia, lasciamo stare nel dettaglio, di radiografie del torace. Ecco, quindi pensate, invece le facciamo in una volta sola, quindi... È chiaro quindi che uno lo deve fare quando strettamente necessario e utile. Certamente. Perfetto. Beh, la coronarografia magari fa un po' paura perché bisogna fare... Ecco, è questo. Vediamo. Questa è la coronarografia, quello in alto è un catetere da cui esce il mezzo di contrasto che viene iniettato, questa è la coronaria sinistra, viene iniettato dentro la coronaria e si vedono proprio delle stenosi in alto, all'inizio la coronaria ha un restringimento e poi anche altri, ma per dire insomma che è un esame... Qual è stata la via d'accesso in questo caso? Ecco, la via d'accesso può essere o inguinale, quindi attraverso l'arteria femorale... Quella classica. ...o oggi sempre più in uso, nelle migliori cardiologie, è l'arteria radiale. Ah. All'enorme vantaggio che il paziente si alza immediatamente. Quindi dal polso? Esatto, l'arteria radiale dal polso. E' quindi comodissima. Viene inserito questo catetere, è un esame invasivo, ma posso dire con assoluta tranquillità rimane il termine invasivo perché ogni cosa in cui si entra dentro l'organismo è definita invasiva, però è un esame veramente oggi con scarsissimi rischi... Ben tollerato, ben tollerato... E grossi vantaggi perché si fa una diagnosi anatomica. Quindi la risposta migliore è proprio questa, più di così insomma. E' chiaro che non bisogna, come ha detto lei prima, fare, perché sono raggi, bisogna fare coronografie a un paziente che non ha almeno qualcuno di quegli esami precedenti indicativo, perché se no significa... c'è stato un periodo in cui andava di moda fare la coronarografia a tutti e questo oltre che a incidere sui costi del nostro sistema sanitario, è sbagliato dal punto di vista proprio clinico. Perfetto, noi rispettiamo ora una velocissima pausa pubblicitaria, quindi restate con noi perché vi mostreremo proprio, lo possiamo dire, professore, le cose di cui lei e la sua equipa dati orgogliosi, cioè un bypass coronarico a cuore... Qualche immagine, qualche immagine. Sì, cuore battente, che è la grande e straordinaria novità rispetto a quello che invece altri centri cardiochirurgici offrono oggi. Allora, quello che non vi ho detto all'inizio, che siamo in diretta, ma forse lo avete intuito, e quindi potete anche telefonare già da subito, prenotando le vostre domande, quello che non avete capito o che volete sentirvi dire, dal dottor Troise che risponderà nell'ultima parte. Grazie.